Benvenuti a Radio Parco, il notiziario del Parco dei Castelli Romani realizzato in collaborazione con Metacomunicazione. In redazione Andrea Titti. Le notizie. I Guardia Parco continuano ad impegnarsi nel far rispettare le misure di contrasto al coronavirus. Dalle 8.30 alle 17.30 in diretta sul nostro canale YouTube dedicato è possibile osservare il falco pellegrino. Si moltiplicano ai Castelli Romani le iniziative di solidarietà. Per saperne di più basta consultare i siti internet e i profili social dei comuni. Questa settimana andiamo alla scoperta dell'anemone dell'Appennino. Per tutte le info consulta il sito www.parcocastelliromani.it. Dal Parco dei Castelli Romani e da Andrea Titti è tutto. Appuntamento al prossimo notiziario.